Buonasera, sono il colonnello Carusi, sono il comandante della caserma Angelucci, il centro documentale di Salerno, situato qui in via Posidonia 98. La presenza della Forza Armata con l'apertura di questa sede salernitana è relativamente collegata ad un protocollo d'intesa che la Forza Armata ha stipulato con la PMI International Italia. I volontari dell'Aeronautica e della Marina Militare che sono congedati dalla Forza Armata senza demerito possono essere ricollocati nel mondo del lavoro attraverso questo protocollo d'intesa che sostanzialmente si identifica in un database, il cosiddetto e denominato SILD, un sistema informatizzato dei lavoratori della difesa, attraverso il quale la media e l'alta imprenditoria può trovare delle specifiche precipue e professionalità di cui necessitano. Finanza agevolata e apertura ai mercati internazionali per imprese e pubbliche amministrazioni, se ne discute qui all'interno del polo nautico di Salerno, quali sono le finalità di questo convegno? Le finalità di questo convegno, oltre ad inaugurare la sede territoriale della PMI Italia International sul territorio, è quella di iniziare a dare una comunicazione e un'informazione giusta all'impresa e agli enti pubblici. Praticamente stasera abbiamo parlato e stiamo parlando di mercati internazionali, quindi le organizzazioni convenzionate con PMI Italia International che danno l'opportunità all'impresa e agli enti pubblici di potersi affacciare sui mercati internazionali. Per quanto concerne invece la finanza agevolata e finanza ordinaria, diamo la possibilità alle imprese che si associeranno a PMI e quindi faranno parte della nostra famiglia, di poter usufruire degli analisti finanziari che gli potranno istruire queste pratiche, dove possono attingere a fondi a fondo perduto e una parte con la restituzione a tasso agevolato. Ci sono aziende nella provincia di Salerno interessate a queste agevolazioni? Allora, aziende interessate nella provincia di Salerno ci sono. Noi inizialmente, prima di prendere decisione di aprire la nostra sede territoriale, amo già delle sedi di rappresentanza, dove abbiamo potuto fare uno screening. Cioè, considerare in base alle misure dell'ente governativo Invitalia e della Bela, Banca Europea di Investimenti che ha lanciato il programma Horizon 2020, vedere praticamente in base a queste misure quali aziende potessero partecipare a questi bandi. Da un primo screening iniziale, quindi parliamo di società, di start-up e neocostituite, tra Salerno e provincia ce ne sono 500 probabili aziende che possono fare e istruire questa pratica. Ovviamente, presso le nostre strutture, la sede territoriale di Salerno è stata inaugurata stasera, quindi ci sono state già delle adesioni in modo informale, che tra poco verranno formalizzate, e cercheremo di dare supporto almeno a un 50% di questi probabili soggetti giuridici che possono fare questa domanda. Anche un libero professionista può essere interessato? Sì, allora quando noi diciamo PMI, dobbiamo definire la PMI, intesa come PMI, dal libero professionista fino all'impresa che ha 3.000 dipendenti, che non è tanto PMI. Quindi questa è praticamente la forbice dove verte la piccola e media impresa. Per le PMI, quindi anche per i libri professionisti, le piccole ditte, ma anche imprese, ripeto, con 3.000 dipendenti, possono partecipare a dei bandi dove ci sta ristrutturazione aziendale, ci sta praticamente un impatto per le politiche energetiche, quindi fare una rivisitazione di spesa sui consumi dei costi fissi. Tenete presente che per ogni impresa, dopo il costo del dipendente, il secondo costo è l'energia. In alcuni casi il consumo di gas naturale, perché sono le materie prime che ogni azienda ha bisogno per portare avanti le attività. Cerchiamo di dare una mano e farle rendere competitive, non tanto verso Italia per Italia o Italia-Europa. Devono entrare nella mentalità formamentis che noi siamo aziende europee, quindi ci dobbiamo interfacciare con il mondo. Posso dire che il convenio è già riuscito. Qualunque cosa diremmo sarà un di più. Eppure stasera di argomenti ne avete ricevere il vostro invito a venire stasera a moderare una tavola rotonda così complessa, di storie e di professionalità diverse, addirittura abbiamo anche amici che si occupano di primordine per l'internazionalizzazione. Eppure il filo conduttore è proprio questo. Quali sono gli strumenti che oggi le imprese, le professionalità, specie del mezzogiorno, hanno? E quindi sono le 19 e stiamo rispettando la tabella di marcia. Non sarò io a debordare brevemente per dargli stimoli giusti e magari anche se ci riuscissi. Qualche considerazione, qualche domanda. Per cui io spero davvero di finire prima per poter fare anche un secondo giro. come siamo abituati, spesso e volentieri, a fare nelle cose televisive, nelle storie di incontri che facciamo tutti i giorni. Però consentitemi davvero con il cuore ancora di ringraziarvi e di conseguenza mi rendo conto che veramente c'è a sentire vivere e ritrasmetterla quando andremo a passeggio raccontando questo sindacato datoriale che funziona. A questo punto io introdurrei il colombetto. Buonasera a tutti. Per il Direttivo Nazionale dell'Appendital International e per me in particolare questa è una serata speciale perché dopo tanto impegno riusciamo finalmente ad organizzare in queste importanti città una nostra sede territoriale. Tutto ciò grazie all'impegno di bravi imprenditori e professionisti serenitari che hanno preso impegno diretto alla tutela e alla promozione interessante e produttiva. Non a caso Solerno è una città in costante crescita, è una realtà vivace ed interessante agli occhi degli investitori. È importante scommettere qui, dove fatti e scelte indovinate dall'amministrazione comunale abitata dal vulcanico sindaco buonorevole Enzo De Lucia per essere parte attiva in questo avviato processo di crescita e di sviluppo che per questi motivi la sede di Salerno diventa strategica per l'Appendital International. La stanza che rivestino le operose 6 milioni di piccole e medie aziende vero motor dell'economia italiana a differenza delle tre più note simili sindacali dei lavoratori le quali nel corso degli anni con le loro trattazioni è importante confession per annunciarvi le nostre iniziative avviate in questo ultimo anno tra cui spicca l'apertura delle ultime sedi territoriali prima dell'avvio dell'ESPO 2015 e di un'altra serie territoriali in Toscana nella città di Prato. Alla nostra iniziativa, già in corso è il protocollo d'intesa sottoscritto con il nome dei 24 comuni dell'Azio attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi in disuso o non efficienti e la relazione dell'avvento di fungo. ...nazionale del comparto aerospazio e comunicatori di impresa di FISMIC chiaramente vi porto i saluti della sede di Rimini, di Pinerolo, dei rispettivi... ...comme si sta raccontando ora con il video dell'Expo perché l'Expo ha messo in grande risalto tutto il tema dell'aerospazio quindi potete fare l'applauso all'amico che è stato presentato il nostro colonnello Mario Berlusi sul tema proprio della formazione che l'ha introdotto molto bene esercizio perché il tema in Italia... ...è stato firmato un protocollo d'intesa con la PMI, l'International per fare in modo che i volontari dell'esercito italiano che sono stati poi congelati senza demerito che hanno effettuato un periodo intenso nell'ambito della Forza Armata e che purtroppo per forza di cose non riescono ad essere transitati in quello che viene chiamato il servizio permanente effettivo nell'ambito delle nostre strutture che poi possono essere scelte da voi che state nel mondo dell'imprenditoria ove che passa di sera, di sabato poi nemmeno il giorno finale, di sabato quindi veramente un grazie a voi perché fa capire l'interesse e la sede di sapere che c'è da parte dell'impresa e di 20 anni, quindi ci aspettiamo una crescita abbiamo Togliarlo? andiamo avanti grazie a Togliarlo vai vai there are wonderful opportunities for small to medium sized companies similar that are represented from PMI si, che appunto le imprese so rappresentate da PMI in Italia hanno delle grandi opportunità perché quel modello delle piccole imprese ha grandi opportunità as the doctor said earlier quality means something made in Italy means something and people are willing to pay for top quality che come diceva correttamente come diceva correttamente il professore che mi ha preceduto beh, traduzione efficace il tema del made in Italy significa qualità che in Africa è molto ascoltato, molto attenzionato si, che significa molto so, how does one do business in Africa 54 different countries 54 paesi diversi in Africa the first thing you need to research which of the countries you want to focus on establish a network establish contacts at the top do your homework pre-plan know the taxes, the licenses and also the port entry fees che c'è, esatto che grossomodo il sistema del governo locali dei governi locali supporta la crescita delle imprese che poi è quella cosa strana che proviamo ad aggiungere ad esempio del Ghana che è uno dei paesi che è più nella classifica mondiale del Fondo Monetario Internazionale e più avanti dell'Italia nel dare poi anche le licenze a fare imprese prima del nostro paese Another thing that's important in Africa is understanding the business mentality respect is very important as well as impatience knowing how to work with the Africans sets you up for success Conoscere la cultura e ovviamente rispettarla è la chiave per avere successo quindi una partnership con i governi dei vari paesi è la chiave per le imprese per avere successo nel loro sviluppo ok As the Chinese market opened up 15 years ago as East Europe opened up 20 years ago Italy and Italian companies were able to be very very successful in those emerging developing markets Africa will be that next developed market where they want Italian products and goods In alcune amministrazioni perchè se diamo il Ghana grazie a voi riusciamo a portare quella competenza possiamo portare soddisfazione sia agli arzini e agli artigiani che non riescono a trovare sviluppo e io sarò qui dietro di portare all'attenzione di Barbara Graziani un accordo che personalmente è sottoscritto con la Turchia con il Ministero dei Trasporti e il Ministero del Commercio non per trasferire le attività produttive all'estero sono contrari ma per dare lo sbocco alla crisi economica al consumo che oramai che è un problema che è giunto e questo certe volte le istituzioni dovrebbero dare maggiore attenzione quando l'anno nel 2013 e chiudo perchè per non togliere spazio ho avuto l'onore di rappresentare la Campania nei tavoli del MISER ho detto direttamente al Vice Ministro che è vero che la legge sui fondi europei o meglio l'utilizzo dei fondi europei è perfetta però bisogna vedere anche se viene attuato noi in Campania abbiamo un problema burocratico e sono sicuro che grazie a voi grazie alla vostra professionalità e grazie a Barbara che ha uno staff di professionisti di altissimo livello riusciamo a eliminare quel tempo negativo perchè è facile lamentarsi che i fondi non vengono utilizzati o i fondi non arrivano a destinazione ma il perché nessuno male se ne è posto e questo dei tavoli istituzionali nelle diverse incontri mi sono permesso di esternare questa questa negatività non voglio elevare più tempo vi ringrazio per l'onore perchè mi sento onoratissimo di far parte di una squadra di professionisti così di importanti e vi auguro veramente il massimo della riuscita mi piace di far parte di confessioni Grazie a tutti. Grazie a tutti.